Un frassino sradicato, il disastro totale di piante e di rive completamente arate dai cingoli. E qui una pista che non è mai stata riattata, come da regolamento. Questa è la situazione a venerdì primo marzo, quando la ditta se n'è andata, quando la concessione è scaduta. Se n'è andata con la legna che ha prelevato in questo modo, lasciando le rive completamente distrutte, dove ha agito, lasciando legna sugli alberi, queste sono le rive, queste sono le rive, non ci si riesce neanche a camminare in mezzo a tutta la legna secca. Questo è lo stato delle rive e questi sono i tipi di taglio che ha adottato questa ditta. Da questo grande ceppo, un pioppo presumibilmente secolare, molto molto grande, questo è il mio piede. Da questo pioppo non nascerà più nessun pollone, non è un taglio di ringiovanimento questo, è un taglio di morte.